Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi continuiamo la rinascita di Super Mario Balotelli signori, oggi siamo proiettati verso i quarti di finale contro il Feenor partita importante, partita importante, ma prima di partire col video signori io vi ringrazio di anticipare per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto vi ricordo di iscrivervi al canale e di darmi dei suggerimenti anche per una futura avventura con qualche altro giocatore non perdiamo tempo, non distraiamoci con cose esterne, siamo un pochino stanchi ma non ci interessa noi siamo Super Mario Balotelli e dobbiamo essere sempre pronti e carichi scendiamo in campo signori, vediamo se riusciamo a portarci a casa la prima partita delle due che dovremo andarci a fare contro il Feenor e poter accedere alle semifinali, che sarebbe tanta roba signori, sarebbe tanta roba, sarebbe tanta roba però vediamo, però vediamo, intanto un passo alla volta, partita di andata dei quarti di finale contro il Feenor siamo in Olanda, siamo a casa loro, quindi concentrati, testa bassa e non pensiamo ad altro ecco, già perdiamo una 0 al settimo minuto, ottimo, tante parole sprecate signori, questi mi sa che ci massacrano tante parole a vuoto, riusciamo a farci vedere, riesci a passarmela, oh grande Super Mario, grande Super Mario attenzione, cerca, si cerca e si trova e si crea lo spazio signori va bene, l'importante è che pareggiamo no no, 2 a 0 al 44esimo, dai, no, però così no, porca miseria, 2 a 0 al 44esimo, no, e questo è difficile perché ora no, no non è che riusciamo a fare qualcosa di interessante, grande Mario che se ne va in dribbling sulla fascia Mario, sulla fascia Mario, sulla fascia Mario, resiste, resiste Mario, resiste Mario, resiste Mario entra in aria, dovevo passarla prima, 4 a 0 al 69esimo signori, ci hanno asfaltato, ci hanno asfaltato malamente siamo stati tanto a parlare, tanto a dire, tanto a fare, questi ci hanno asfaltato tirala, tirala, tirala ma era goal ma stiamo scherzando, era goal non ci posso chiedere non ci posso chiedere signori, non ci posso chiedere era goal, era gollazzo per noi, niente, bel tiro niente da fare signori, il sogno si infrange 4 a 0, mamma mia cioè mi ha interrotto per un'azione che la palla era dentro cioè la palla era dentro porca miseria sono scioccato signori, sono scioccato io già speravo in qualcosa di interessante invece scioccato mamma mia il sogno mi sa che si infrange i quarti e va bene e va bene la fine di un sogno, e va bene ci concentreremo solo sul campionato turco che vi debba di 4 a 0 a 0 sono scioccato non ho parole per poter esprimere la mia sciocchitudine qui mi sa che gli allenamenti non li possiamo fare e andiamo avanti signori avanziamo prossima è una partita di campionato ci ributtiamo sul campionato contro la Thaie Sport in classifica come siamo messi? che non ricordo veramente nulla siamo terzi ha una partita in meno dal Galatasaray che è 6 punti sopra di noi e due partite in meno rispetto al Transport che è 2 punti sopra di noi ok, il Besiktas ha una partita in più di noi ed è 3 punti sotto vabbè qui ci servono i 3 punti signori qui non abbiamo mezze misure non abbiamo mezze misure non abbiamo possibilità di decidere cose diverse qui ci servono i 3 punti aspettate che mi devo mettere un po' più comodo ok porca miseria un 4 a 0 ci hanno asfaltato male mamma mia sono scioccatissimo sono scioccatissimo tra l'altro ci ha interrotto ci ha segnalato palla persa quando il nostro compagno ha tirato in porta perché la palla era indirizzata in porta però palla persa vabbè come dicevo il giocatore il gioco è soprano signori il gioco è soprano decide lui su tutto allora 24esimo azione per noi sulla fascia destra sulla nostra fascia destra attenzione cerchiamo di entrare in aria ma non ci riusciamo fa tutto lui signori fa tutto lui fa tutto lui e fa una gran cacata dico potevi giocarla con noi però va bene 43esimo dobbiamo riuscire a segnare mi servono servono tre punti come il pane servono tre punti come il pane mi vedi mi vedi perché non mi guardava ok mi ha guardato lui ma mi ha portato via il giocatore mi ha portato via il giocatore mi ha portato via il giocatore entra in aria super Mario Balotelli l'ho tirato fuori 67esimo siamo al secondo tempo mannaggia abbiamo avuto quella grande azione che ce la siamo fumata male Balotelli ancora Balotelli 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 si allarga sulla fascia Balotelli ci crede ci crede lui ci crede lui Balotelli se ne va Balotelli se ne va 79 ottantesimo ottantesimo ancora Balotelli vediamo se riesce a farsi passare il pallone Balotelli riesce a farsi passare il pallone c'è qualcosa Balotelli 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 ancora se ne va su quella fascia il roccio li lascia spazio Balotelli 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 perché ci sta una vita a tirare porca miseria finisce 0-0 ci sta una vita a tirare una vita va bene che cazzarola dai perdere tutto così no porca miseria perdere tutto così no Galatasaray ancora non ha giocato ma rischia di andarsene a 9 punti per la gente Galatasaray male 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 malissimo 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 veramente bella l'inquadratura c'è il ritorno c'è il ritorno con il Feyenoord andiamocela a giocare signori tanto non abbiamo proprio dopo il 4-0 a meno che un miracolo ci salvi e riusciamo a fare 4 gol ma non credo proprio non credo proprio ci proviamo ci proviamo la speranza è sempre l'ultima a morire noi siamo dei professionisti scendiamo in campo dimostriamo la nostra professionalità e ma non ma sono proprio scoraggiato già in partenza però però ci crediamo ci vediamo dai 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 signori che la partita è iniziata dai che la partita è iniziata siamo al quinto minuto azione per noi siamo al quinto minuto azione per noi dove sta Balotelli ok siamo al centro dell'area di rigore perfetto sì al centro dell'area di rigore che cazzo l'ho detto bellissimo Balotelli Balotelli con questa rispinta non è finita c'è la rispinta ma non è finita dai dai credici ancora bello bello così a quinto trova il 4 a 1 bello così 57esimo azione per noi però siamo proprio sfortunati non riusciamo a trovare un gol passamela passamela un'azione che sia una per trovare il gol attenzione Balotelli 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 2 a 0 della Tana Sport mamma mia che botta di schiena dai così dai così va bene signori occasione per la Tana Sport al 65esimo al 65esimo dove siamo noi siamo là dammela 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 zio ancora Balotelli 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 al limite dell'area Balotelli 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 fa fuori difensore centrale Balotelli 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 la piazza 3 a 0 3 a 0 della Tana Sport contro il Feyenoord mamma mia che partita mamma mia che partita mamma mia che partita mamma mia che partita 3 a 1 del Feyenoord mannaggia all'ottantesimo mannaggia a loro mannaggia a loro signori e ne la buttiamo fuori azione all'ottantatresimo calcio di punizione azione loro azione loro mannaggia mannaggia non ci voleva questo 3 a 1 non ci voleva questo 3 a 1 non ci voleva pallone che esce ma è l'azione loro quindi appena noi riconquisteremo palla ed è finita finisce qui finisce qui 3 a 1 3 a 1 mannaggia mannaggia essi hanno giocato meglio l'andata essi hanno giocato meglio l'andata avremmo avuto molte più possibilità e invece così si infrange il sogno di Barodelli ai quarti di finale con la Dana Sport in Conference League e vabbè signori era un era molto complicato era molto complicato ci abbiamo creduto fino in fondo comunque abbiamo fatto la nostra bella figura perché comunque il ritorno 3 a 1 non ci possiamo non usciamo con onore usciamo con onore con una brutta figura nella partita d'andata al ritorno quantomeno ci siamo ci siamo difesi bene abbiamo fatto tremare i giocatori del del Feyenoord ma purtroppo il sogno si infrange ai quarti di finale detto questo signori un episodio disastroso perché tra l'altro anche in classifica andiamo a vedere la classifica del nostro campionato siamo un punto sotto il transport con una partita in meno e 8 punti sotto il Galatasaray con una partita in meno vediamo un attimino il calendario per capire se c'è ancora qualche margine allora abbiamo 3 partite di campionato e una di coppa in questo mese ancora altre 3 partite di campionato e una di coppa ed è finita niente signori mi sa che anche il campionato turco ce lo siamo bello che è giocato con queste ultime prestazioni detto questo signori io vi ringrazio per i like per i commenti per i giocenti e per il supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto bella raga ciao